Salve a tutti, sono Bohman ed eccoci di nuovo insieme per la mia serie Battere il Benchmark ovvero capire quali asset hanno storicamente battuto il mercato e per quale motivo l'hanno fatto per avere una più profonda comprensione di cosa fa chi cerca di sovraperformare rispetto al benchmark ovvero oppure di scegliere almeno per una parte del proprio portafoglio di investimenti qualcosa di particolarmente redditizio o di particolarmente promettente oggi parleremo delle azioni ad alta crescita le cosiddette Growth Stock ovvero le azioni Grow quelle che puntano molto alla crescita di valore del titolo azionario si può dire molto su questo asset è uno dei metodi più classici, più banali per cercare di battere il benchmark cioè replicare di un benchmark il suo sottoinsieme è composto dalle aziende ad alta crescita ricordiamo che usualmente sul mercato le aziende vengono categorizzate in tre livelli le cosiddette aziende Growth, quelle ad alta crescita le Blend, quelle intermedie e le Value, quelle che hanno un valore di bilancio più alto rispetto alla crescita del prezzo di mercato quando parliamo di aziende Growth parliamo di un metodo banale per cercare di fare meglio del mercato ma oggi io voglio cercare di approfondire per capire in maniera più profonda e meno ovvia che cosa stiamo facendo quando andiamo a investire in aziende cosiddette Growth che cosa accomuna sul mercato azionario queste nove aziende che vedete vicino alla mia faccia Prismian, Amplifon, Brunello Cucinelli, Diasorin, Infrastrutture Wireless Italiane che è un titolo L'Automatica, la Repli SPA, la Tecnoprobe e Zalando queste sono le uniche nove aziende italiane non small cap quindi non a piccola capitalizzazione ma che vanno da una mid cap quindi una media capitalizzazione a una grande capitalizzazione quindi parliamo di miliardi di valore complessivo stimato delle azioni sul mercato per ciascuna di queste aziende che sono categorizzate come Growth le uniche con l'ISIN che inizia per IT quindi presenti sulla borsa italiana e sul mercato italiano vediamo che i settori in cui operano sono di natura diversa la Prismian è un'azienda di beni industriali l'Amplifon sono dispositivi medici Brunello Cucinelli è una grande marca del lusso Diasorin è nel settore sanitario Infrastrutture wireless sono delle immobili anche se particolari infrastrutture immobiliari l'Automatica ha beni civici Replay S.P.A. sono software Technoprobe è una società di semiconduttori e Zalando è un'azienda online quindi di distribuzione e sono sempre beni civici allora se io vado a fare uno spaccato di questa azienda prendiamo ad esempio Prismian perché? perché Prismian è l'unica azienda italiana attualmente quotata sul mercato italiano riconosciuta come growth che abbia grande capitalizzazione ovvero una cosiddetta large cap cerchiamo di capire in maniera profonda quali sono le caratteristiche del mercato growth quando noi lo andiamo ad acquistare sia come singola azienda sia come indice e paniere di aziende growth rispetto al suo benchmark e il mercato generale globale allora oggi Prismian si scambiava intorno ai 66,86 euro per azione in totale il valore di tutte le azioni quindi la capitalizzazione teorica dell'azienda sul mercato è di 19,2 miliardi quindi un'azienda molto grande una large cap soprattutto per il piccolo mercato della borsa italiana di Milano rispetto alle grandi borse mondiali l'utile netto nel 2022 e del 2023 è stato simile con un tasso di crescita 504 milioni nel 2022 529 milioni nel 2023 il price earning ratio ovvero il rapporto tra il prezzo di mercato e gli utili è stato di 37,26 vuol dire che 37,26 anni di utili fanno il prezzo di mercato teorico di tutta l'azienda se ne comprassi tutte le azioni al prezzo di mercato attuale poi c'è un concetto di patrimonio netto qui andremo a capire poi che cos'è farò dopo un esempio il patrimonio netto nel 2022 e nel 2023 è stato simile 3,58 miliardi nel 2022 e 3,78 nel 2023 quindi vediamo questo rapporto forte 3,5-3,7 miliardi di patrimonio a fronte di 19,2 di valore inteso come capitalizzazione di mercato 37,26 anni di utili per fare il valore attuale di mercato e parliamo di un'azienda ad alta crescita di valore e di un'azienda considerata molto buona valida sicuramente se guardiamo le riviste di finanza diranno che un'azienda da comprare ha fatto delle performance incredibili come investimento per chi l'ha acquistata qualche anno fa io avevo delle posizioni che conosco che hanno preso Prismian stanno crescita a tre cifre in tempi abbastanza brevi facciamo un esercizio logico di comprensione più profonda investimento ad investimento ipotizzando che questi dati di bilancio di un'azienda growth large cap quindi grande, stabile azienda leader nel suo settore punto di riferimento considerata ottima altissima crescita grande guadagno per chi ci ha investito con un investimento più prosaico ipotizziamo che io sono un imprenditore e voglio acquistare un ristorante e io vado a cercare un ristorante che è una SRL quindi una società di capitali non quotata in borsa di cui vado a comprare le azioni perché comunque sono in mano ai soci per acquistare l'intera attività tutto il blocco le mura del ristorante l'arretamento la clientela il marchio i dipendenti le forniture il magazzino tutto quello che c'è allora l'attuale prezzo di mercato del ristorante è di 2 milioni di euro per avere gli stessi parametri di una società growth indubbiamente di ottima qualità come Prismian io avrei avuto 2022-2023 degli utili simili stabili in leggera crescita uno di 53 mila euro nel 2022 uno di 54 mila euro nel 2023 sempre un price earn in ratio di 37,26 che corrisponde a un patrimonio netto della SRL in questo caso ristorante nel 2022 di 373 mila euro nel 2022 e di 393 mila nel 2023 comprendiamo il concetto di patrimonio netto facciamo l'esempio che io voglia calcolare il mio ipotetico patrimonio netto diciamo che io non possiedo nulla tranne un immobile a un certo punto voglio andare a vendere l'immobile e voglio calcolare quale sarà grossomodo il mio patrimonio netto allora ricevo un'offerta di acquisto per 300 mila euro però sull'immobile rimane una passività un mutuo residuo di 200 mila qualcuno può dire beh è semplice il patrimonio netto è di 100 300 meno 200 no perché poi ovviamente ho dei costi che posso simulare alle ipotetiche passività insomma costi di gestione ad esempio potrei avere l'agenzia immobiliare 10 mila euro potrei avere ad esempio un'ipoteca sull'immobile per tasse non pagate di 30 mila quindi il mio ipotetico 100 mila di residuo vendo l'immobile estingo il mutuo va tolti altri 40 quindi magari ho 60 mila di patrimonio netto sulla proprietà di questa casa che io ipoteticamente vado a vendere ho ricevuto un'acquisto un'offerta di acquisto di 300 però c'erano i debiti c'erano le ipoteche ci sono i costi di servizi dell'agenzia immobiliare per poterlo collocare sul mercato quindi quello è il concetto di patrimonio netto lo stesso vale grossomodo per un'azienda l'ipotesi del ristorante è forte io vado a spendere 2 milioni per acquistare il ristorante se ipoteticamente dovessi dire sì va bene ma poi ipoteticamente questo cessa di esistere come ristorante e devo ricorrere al suo patrimonio il patrimonio qual è? non so ad esempio le mura il prezzo a valore di mercato degli arredi meno non so i costi di liquidazione dei dipendenti meno i debiti verso la banca meno gli impegni già presi le bollette non pagate tutto quello che mi viene in mente viene fuori che il patrimonio che sto acquistando per 2 milioni è di 393 ma notiamo soprattutto l'utile io faccio questo investimento da imprenditore vado a spendere 2 milioni di euro che con gli utili che capitalizzo ogni anno puliti del ristorante impiego 37 anni per rigenerare praticamente ho un utile che è il 2,7% di quanto tiro fuori molti investitori direbbero sai che dico io non faccio proprio la fatica la mattina a svegliarmi ad aprire il ristorante io li do a un consulente al boom andata la situazione il 2,7% verosimilmente anche con un rischio molto contenuto cosa che non accade su un'impresa come un srl da gestire sul mercato riesco a ottenerlo facilmente insomma il 2,7% di utile ecco questo è il forte concetto di un'azienda tipicamente growth ovvero il prezzo di mercato il prezzo di acquisto delle azioni è vero che è cresciuto tantissimo nel tempo quindi è stato un eccellente affare per chi l'ha comprata però è anche vero che si stacca in maniera molto forte di solito dai suoi utili e dal suo value cioè dal suo valore di bilancio ovvero dal suo patrimonio per questo si dice che l'azienda è growth ad alta crescita è salito tanto il prezzo ok però non è un investimento sciocco cioè al mio ipotetico imprenditore che sta valutando l'acquisto del ristorante quel tipo di attività a meno che non abbia in mente qualcosa per rilanciarla per tirarne fuori un utile maggiore oppure sa che il patrimonio crescerà perché ad esempio sta per rinegoziare un debito qualcosa di questo tipo quindi c'è qualcosa di interessante sotto potrebbe non essere il massimo della convenienza come tipo di investimento tuttavia aver investito nel mercato mondiale growth parliamo di un MCI world growth quindi l'azionario l'insieme delle azioni che nei paesi sviluppate sono categorizzate come growth avrebbe battuto il benchmark questi sono dati della società di indici MCI quindi non sono le simulazioni che fa Bowman contestabile oppure no sono la loro tabella notiamo che a 10 anni l'MCI world growth ha avuto un rendimento medio anno del 13,02% a fronte di un rendimento anno dell'MCI world del 10,65% e ragazzi il 30% in più di rendimento ogni anno è veramente tanto soprattutto su uno storico che inizia a essere 10 anni ma non solo perché a 3 anni comunque il growth ha fatto appena di meno ma non troppo meno in un anno ha fatto significativamente di più e così via insomma e a 5 anni ha fatto il 16% anziché il 13,59% quindi è comunque un asset che ha avuto tendenzialmente anche nel lungo periodo anche in frazioni nel lungo periodo spesso una crescita superiore all'MCI world classico andiamo a vedere il campione del growth la seconda borsa mondiale è il Nasdaq perché la più grande borsa come capitalizzazione al mondo è la borsa di New York che si trova a Wall Street nella città di New York ma la seconda borsa del mondo come capitalizzazione è il Nasdaq che si trova a Times Square nella città di New York però non è mai stata aperta alle grida quindi è una borsa prettamente telematica ormai sono tutte telematiche ma il Nasdaq lo è sempre stata da quando è nata negli anni 70 allora il Nasdaq ha mostrato una capacità di crescita e una presenza di aziende molto superiore a quella del mercato base su un orizzonte temporale lungo vediamo questo grafico che lascia a bocca aperta ovviamente il WWCE ovvero l'ETF Vanguard World All World che replica l'indice FTSE All World che include anche i paesi emergenti ma tutti i paesi del mondo è cresciuto meno dell'SP500 ovvero le 500 aziende più grandi degli Stati Uniti sappiamo che l'indice americano ha trainato sulle borse mondiali e ha fatto di più ma il Nasdaq ha stracciato l'SP500 ovviamente molte delle 500 aziende dell'SP500 sono quotate al Nasdaq però vediamo che indubbiamente il Nasdaq è stato la borsa l'indice il Nasdaq 100 quindi le 100 aziende più grandi del Nasdaq sono state quelle trainanti dei vari indici ma lo ha stracciato di ordini di grandezza se avessi investito poco prima della crisi del 2008 oggi avrei fatto tre volte il capitale con l'investimento globale sei volte il capitale con l'investimento USA standard ma se vado a vedere le aziende del MCI World Growth quindi le prime aziende come percentuale perché ovviamente sono ponderate per capitalizzazione quindi le aziende più grandi con caratteristiche Growth sono le aziende più presenti nell'indice MCI World settore Growth queste sono aziende come la Apple che è rappresentata solo a quasi un decimo dell'indice la Microsoft Nvidia Amazon Meta Platform ovvero Facebook Alphabet ovvero Google Tesla Lillian Company e Visa benissimo le ultime tre piuttosto in percentuale intorno al 2% o di meno quindi molto più più periferiche tutte queste sono aziende che similmente a Prismian presentano dei livelli di price cerni in razio molto molto alti cioè meno di Prismian e le vediamo qui in giallo c'è Meta Platform comunque 29 rispetto a 30 non è non è che sia chissà quanto Alphabet forse il prezzo si stacca di meno dagli utili e ha avuto degli utili probabilmente molto alti ma sempre 23 volte poi abbiamo quelle medie insomma la Apple 34 volte e 36 volte gli utili quelle rosse come Nvidia 57 volte gli utili 44 nel caso di Amazon o addirittura Tesla lo messo in nero 72 volte gli utili questo caratterizza l'investimento growth rispetto all'investimento generale possiamo aspettarci che questo investimento sia tendenzialmente a leva sul mercato cioè non è inverosimile che quando il mercato cresce le aziende che piacciono di più agli investitori che vengono acquistate di più non solo per dei fondamentali di bilancio perché se io dovessi guardare gli utili di Plismian il 2,7% di rendimento in forma di utili non mi sembra nulla di così superiore a quello che ha come rendimento al Bunde tedesco quello che mi aspetto perché ci investo perché mi aspetto che saiga il valore delle azioni ovvero che ci sia tanta gente che la vuole perché la vogliono per una serie di coefficienti sono aziende popolari sono aziende innovative sono aziende molto efficienti sul mercato sono aziende che hanno quell'intangibile teorico wide mode wide mode vuol dire il baradero competitivo rispetto alla concorrenza spesso sono aziende aperte ai mercati internazionali per quello c'è un'ampia presenza spesso di tecnologici o di settori innovativi sono aziende che hanno qualcosa in più come prodotti prodotti Apple si staccano ad esempio dagli altri smartphone ha un marchio molto forte la Microsoft ha un sistema operativo che sta in quasi tutti i computer Nvidia ha il suo discorso che è stata favorita dallo sviluppo in tegis artificiale Amazon è il primo e-commerce non il secondo il terzo è il primo Meta Platform come comunicazioni Alphabet come motore di ricerca Google Tesla come produttore di auto elettriche quindi vediamo che sono tutte aziende che non solo hanno una crescita dovuta al loro valore contabile o al loro utile che indubbiamente c'è e ci si aspetta che siano utili spesso e sempre in crescita non aziende che vanno verso la decadenza economica altrimenti probabilmente passerebbero dal livello growth al livello blend o addirittura al livello value del proprio mercato ma hanno potenzialmente un patrimonio relativamente scarso rispetto ad altri per affrontare una crisi degli utili cioè laddove arrivasse la crisi degli utili se un'azienda che è sempre stata così così alcuni anni utili altri anni perdita patrimonio magari significativo presenza su vari mercati secolare e quant'altro non era cresciuto troppo il prezzo non era cresciuto troppo il valore è relativamente economica diciamo una azienda che si basa molto sull'aspettativa di crescita potrebbe subire un drawdown del prezzo e del valore molto superiore visto che noi non siamo imprenditori che gestiremo il nostro ristorante ma siamo investitori finanziari che andiamo su un indice per vedere crescere soprattutto il valore di mercato dobbiamo tener conto di questi aspetti l'altro problema a livello globale è la concentrazione settoriale ovvero settori come la tecnologia o in generale l'innovazione sono sicuramente favoriti per entrare negli indici nella sezione growth degli indici di mercato vediamo che tutte queste aziende hanno a che fare con la tecnologia le prime del world growth Apple produttore di dispositivi informatici elettronici Microsoft sistema operativo Nvidia legata all'intelligence artificiale Amazon è un e-commerce non è una catena di distribuzione di negozi fisici meta platform Facebook è un sito è un social Alphabet motore di ricerca giusto Tesla può avere un aspetto prettamente più industriale ok quindi una forte concentrazione settoriale quindi non sto diversificando molto a livello di settori se noi scegliamo che tutta la parte o gran parte della quota azionaria vada nel growth teniamone conto infine c'è proprio un problema di diversificazione laddove io voglio diversificare è complesso se noi torniamo indietro vediamo tre indici il Nasdaq l'SP500 e l'Ile Country World Index di FTSE uno è contenuto nell'altro cioè nell'SP500 molte aziende sono del Nasdaq l'FTSE al Country che sta sotto il classico titolo VWCE è composto in gran parte da azionario americano composto quindi dall'SP500 quindi io ho già un problema di forte presenza delle aziende growth anche prendendo un indice globale se associo un indice grossomodo globale grossomodo large cap quindi le aziende più grandi ad un investimento growth sto principalmente incrementando la quota del growth large cap quindi le aziende grandi e ad alta crescita poiché già dominano in buona parte i listini mondiali questo è un aspetto che noi dobbiamo assolutamente tenere in considerazione e teniamo in considerazione quali sono le caratteristiche dell'investimento growth abbiamo detto quelle che sono le possibili non dico criticità ma i punti d'attenzione dobbiamo considerare quali sono tendenzialmente le caratteristiche se noi andiamo a leggere un classico come Benjamin Graham l'investitore intelligente lui pone grande attenzione nella valutazione del growth stock e dice che va considerato il valore reale paragonando gli utili correnti con il tesso di crescita anno atteso degli stessi utilizzato anche come fondamentale delle growth stock poi lui fa molta attenzione ad esempio al dividendo gli indici world growth pagano storicamente un dividendo enormemente inferiore all'indice world globale e questo avviene per molte aziende growth sui vari mercati questo campanello d'allarme sembra disatteso dalla storia successiva perché lui scriveva inizialmente alla fine degli anni 40 poi rielabora il libro all'inizio degli anni 70 il nasdaq arriva dopo e il grande boom del growth americano azzittisce di fatto questa teoria tuttavia va considerato il punto di vista di una persona che ha attraversato sempre la crisi del 29 ma più di recente le growth stock da cosa sono state colpite dalla bolla del dot com nel 2000 quindi in quella fase l'indice growth è crollato l'indice growth per eccellenza il nasdaq è arrivato a crollare oltre dell'80% che è pari a un crollo che le borsa americana globale subì soltanto in occasione della crisi del 29 quindi una forma di depressione grave dell'indice questa depressione grave dell'indice possiamo capire perché perché andando un po' a leva idealmente sui propri utili io da un'azienda growth non mi aspetto dividendo non mi aspetto patrimonio mi aspetto crescita laddove questa crescita viene disillusa o peggio ancora capisco che la crescita c'era ma è una crescita di valore delle azioni data da una bolla la esplosione di una bolla può essere particolarmente forte io di questo ne devo tener conto poi dice sì però sono 20 anni che vanno super bene abbiamo visto un grafico dal 2018 che azzittisce tutto dal 2008 che azzittisce tutto sì è vero però il 2008 2024 non è tutta la storia non è tutto l'universo investibile dobbiamo considerare sempre che anche l'indice di volatilità delle aziende growth è più alto però senz'altro hanno battuto per lungo termine il mercato o comunque sono stato dei volani per il mercato globale che lo ha portato su e ha dato gran parte del suo rendimento è anche difficile come dicevo diversificare poiché gran parte della capitalizzazione dei mercati globali oggi è composta da grandi growth stock grandi aziende ad alta crescita quindi questo è un problema di cui devo tener conto dall'altro punto di vista possiamo osservare che la concentrazione dei due settori dell'innovazione e questo in parte le accomuna con quality di cui abbiamo già parlato in un altro video battere il benchmark va verso settori tendenzialmente a bassa concentrazione di capitale questo può riportarci a un fenomeno storico cioè noi la prospettiva storica l'abbiamo dopo che un periodo storico è passato proviamo dall'interno di quel periodo storico a guardare l'attuale momento storico attraversiamo in una fase in cui la crescita molto forte anomala del debito aggregato mondiale causò 15 anni fa una crisi a rischio depressione la prima volta a rischio di depressione mondiale dopo la crisi del 29 per la forza della crisi del debito che si causò a seguito della crisi di Leban Brother la grande crisi dei mercati finanziari ma dell'economia in generale in seguito la ricetta è stata incrementare ancora di più il debito aggregato mondiale quindi senza una fortissima inflazione se non negli ultimi anni quindi abbiamo continuato tra virgolette a inserire liquidità sul mercato prima della crisi c'era una forte liquidità inserita come debito privato adesso c'è una forte liquidità aggiunta come debito pubblico parzialmente smaltita negli ultimi anni tra rialzo dei tassi e inflazione ma lungi dall'invertire un trend questo debito è andato a coincidere con una crescita molto forte più forte del mercato che è battuto il benchmark di quei settori indubbiamente quality ma anche di quei settori tecnologici innovativi che non hanno un enorme fabbisogno di capitali non hanno fabbisogno di un patrimonio degli immobili di proprietà della leva finanziaria forte poiché tutto si basa su aspettative di crescita date dall'innovazione e dal carattere dominante sul mercato dell'innovazione nel contempo siamo andati verso una sempre maggiore globalizzazione dei mercati globalizzazioni che ci sono state più volte nella storia ma indubbiamente i primi vent'anni del ventunesimo secolo sono stati vent'anni di forte globalizzazione globale non è detto che succeda sempre così gli eventi geopolitici particolarmente avversi possono mettere fine alla globalizzazione la crisi del ventinove venne innescata da una notizia sul rialzo delle tariffe dei dazi internazionali che poneva fine a una forte fase di globalizzazione forse iniziata salvo la prima guerra mondiale con l'avvento dei grandi trasporti del ventesimo secolo quindi facciamo attenzione poiché la storia non è sempre uguale a se stessa si ripete ma mai uguale a se stessa come disse uno storico e dobbiamo tener conto che quando stiamo investendo in un mercato growth stiamo investendo un mercato con le caratteristiche che abbiamo oggi enunciato un saluto a tutti e alla prossima occasione grazie